Tara Mufringer E io faccio un sogno e desviandomi da scusso perché io venivo digerì lo che io avevo mangiato e domestì. Anche il sogno mi spiegava di essere importante tutti in basevo, in riverivo come un Presidente e lontano vogliava in paesaggi che conosceva ma sova propinando vanno a castruare perché io ero del co ma al mio paese ed è troppo che al mio paese è un sogno per a costruire ma io avevo frequentato. Parai pensando a vanno a cagliare avendo usato una faccia forestiera che mi hanno detto che mi ero in paradiso e stupì aiutò gli per risposta che ricordavano che si trapassò e che invece mi spiegava di essi acò. Col personaggio un po' stram arrabbiòmi per mano e si imbricòmi e da lì con l'insegno di dirmi vai che un po' lì guste e del castello e mi spiegava quel figo s'entra bambasina vist da quel post a me sa colina con le neppi a tut'antorn. ma vai che non puc pinlo mandisco il personaggio stram e mi ausandaiòi avuc portacomè il bric pujan ma vuoi un gancho per lontano e isola mon gardien toni che hai scurt dausin con la faccia forestiera adesso ma smia et concella ma smia che sia si i propini non ma quando la concia chi la disparia ad colp am son sviò e sviò e sviò mi io pensò a lui che aveva sognò a s'attara del monfro che tanta che il mastò e che and dispiòs dove il la sé quando indi che spie lontan i miei assarrerà il o è il il si un pi è un